eccoci qua benvenuti a tutti abbiamo appena aperto il webinar questo nuovo pomeriggio da passare insieme con dremel italia io sono valentina scuteri grafica e crafter esperta in dremel e con me ci sarà martina di ispirando a tutti benvenuti aspettiamo un attimino che entrino tutti se non mi conoscete io sono martina di ispirando mi occupo di fai da te idee di arredamento design ricamo quindi oggi vedremo in particolare come utilizzare questa tecnica molto interessante unita al legno quindi una cosa molto particolare ma molto versatile ecco mi è piaciuto proprio oggi pomeriggio perché riusciamo mettere insieme anche tu poi comunque hai la passione per il fai da te fai un sacco di progetti io sono molto sono fan di dremel e tutti gli strumenti di dremel quindi e poi mi piace particolarmente quando faccio dei progetti con legno e unire queste due tecniche così che sembrano sostanzialmente così diverse ma in realtà non sono così distanti è molto bello quindi secondo me può essere un'idea interessante anche vedere l'applicazione poi nel concreto sì infatti infatti adesso magari se dalla chat mi dite se si vede bene si sente cosa almeno facciamo i classici test audio prima di iniziare speciali esatto e intanto do un paio di informazioni magari un pochino più tecniche sulla gestione del webinar potete mettere a schermo intero l'oratore praticamente trovate in alto a destra solitamente vista e potete mettere a schermo intero la persona che parla e poi per le domande c'è la sezione sotto in fondo se scorrete col mouse oppure con il telefono ci sono i disegni dei fumetti il doppio fumetto è la sezione quella per le domande mentre invece il singolo fumetto è per la chat quindi queste sono le vie di comunicazione per farci anche le domande durante la spiegazione durante il webinar adesso aspettiamo ancora qualche minuto vediamo che si connetta aspettiamo che si connetta ancora qualcuno e poi partiamo poi nel corso del del webinar racconteremo anche il particolare dei fori del cavallino che è un piccolo problema tecnico che avevamo avuto ma che poi abbiamo risolto ce la siamo cavata esatto salve a tutti sono contenta cominciato già ad essere attivi dalla chat benissimo siete già in tanti certo allora il webinar è registrato quindi alla fine del webinar durante la settimana poi riceverete una mail contenente il link con la registrazione e la dispensa con tutti i dati tecnici e le sagome dei progetti che creeremo oggi quindi state tranquilli anche se magari avete problemi di connessione oppure non riuscite ad essere con noi tutto il tempo riceverete comunque la dispensa e il link nella prima parte ci sarò ci sarà martina che spiegherà appunto come decorare il cavallino mentre invece nella seconda parte ci sarà invece la versione più tecnica per capire come creare la sagoma quindi due webinar suddiviso in due parti direi che aspettiamo ancora un minutino e poi partiamo direi ci sono domande si sente si vede bene perfetto hanno confermato sì 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 ok controlliamo anche qua allora tu come hai cominciato a ricamare martina è una bella storia perché in realtà allora prima di tutto io ho delle origini sarde quindi sono sempre stata molto affascinata riguardo il ricamo perché non so se sapete ma la tradizione sarda questi abiti costumi tipici che sono molto ricamati ricchi di fiori molto molto particolari e molto eleganti quindi mi ha sempre affascinato fin da bambina poi grazie a mia mamma quando ero adolescente ho iniziato a ricamare appunto croce quindi diciamo che forse la generazione delle ragazze degli anni 90 hanno un po' tutti sperimentato con il punto croce poi ho un po' abbandonato per poi riprenderlo circa 5-6 anni fa quando ho visto appunto come si è evoluto il ricamo moderno nel corso del tempo soprattutto tramite anche delle ispirazioni che arrivano dall'America e vedendo appunto come può essere versatile che può servire sia per ricamare un abito quindi arricchire un indumento ma anche creare dei biettini di auguri particolari creare una decorazione su legno super particolare quindi davvero io credo che sia super versatile come come tipo di tecnica mi piace proprio per questo e poi in realtà è una tecnica che a cui mi sono approcciata ultimamente quindi non è stata una di quelle di quegli amori a prima vista cioè è sempre stata la mia passione però davvero il fatto di poter magari andare a combinare le diverse tecniche mi piace molto come idea secondo me è molto bello bene dai a questo punto direi che possiamo cominciare questo webinar sul ricamo su legno quindi do la parola a te Martina e raccontaci come hai fatto a decorare questa sagoma sì allora qui con me appunto due sagome questa che vedete che dopo vedremo insieme a Valentina che è appunto creata sul legno ed è stata poi forata dopodiché io ho creato il mio ricamo come avrete visto sulla pagina Instagram di Dremel che sostanzialmente è formato da tre punti quindi abbiamo tre tipi di punti il punto nodino che è questo qua il punto margherita e il punto indietro che è questo adesso ve li farò vedere su tessuto così poi vediamo come cambiano sul ricamo sul diciamo su una superficie diversa che può essere appunto il legno per questo tipo di ricamo io ho utilizzato un filo particolare che si chiama filato per le vi faccio vedere allora in realtà non siamo troppo vincolati dall'uso del filo diciamo che la scelta del filo da utilizzare dipenderà tantissimo dai fori che abbiamo creato dal diametro dei fori in questo caso i fori sono abbastanza piccoli come vedete sono circa tre millimetri quindi ho scelto di utilizzare un filo che fosse non troppo spesso ma neanche troppo fine ma che comunque avesse una certa consistenza e si vedesse quindi il filo che ho utilizzato è questo si chiama filato per le ed è disponibile in tre misure la S la M e la L faccio vedere giusto per la differenza questa è la M questa è la L e questa è la S quindi sono sostanzialmente delle hanno dei spessori diversi è un filo carino a me piace molto perché è un filo indivisibile quindi non può essere diviso in più capi come tendenzialmente avviene per il classico filo da ricamo ed è ritorto quindi ha un effetto molto carino perché risulta un po' più tridimensionale come potete vedere da dal cavallino quindi possiamo usare qualsiasi filo cambierà ovviamente la resa ma dipende tantissimo dai fori che andiamo a realizzare quindi adesso sposto un attimo l'inquadratura così vi faccio vedere mi sposto sul telaio e vi faccio vedere come si creano questi tre punti è interessante il fatto del filo che non non sapevo che ci fossero quelli di conoscevo quelle divisibili ma quelli già nelle misure non lo conoscevo quindi già ho imparato qualcosa sì volendo si può utilizzare anche la lana che però ovviamente ha uno spessore molto più grosso ad esempio qua ho altri campioni di filo questa è un cotone è un gomitolino che è più spesso qua vi faccio rivedere questo è lo stesso filo che utilizziamo oggi però S vedete com'è sottile e non può essere diviso quello di oggi è questo qua invece la M che è un po' più spesso rispetto a prima e poi c'è questo qua che è L che secondo me può essere paragonato alla lana, alla lana un po' non troppo spessa diciamo sì sì allora si vede sì? sì sì si vede benissimo ok allora io solitamente faccio vedere sempre questo, io faccio un fiorellino perché appunto si può vedere come si possono combinare i tre punti insieme come vi dicevo prima allora andremo a fare il punto indietro che è questo qua, il verde, il gambo del fiore il punto margherita che sono i petali del fiore e poi il punto nodino che è il pistillo quindi sostanzialmente utilizzando questi tre punti possiamo andare a creare un fiore come vedete ma anche altre combinazioni perché in questo caso è un disegno che non è in realtà un disegno preciso, cioè non abbiamo un fiore, abbiamo un fiore qua, poi abbiamo dei pallini decorativi quindi si possono utilizzare anche per creare delle decorazioni diciamo mi chiedono se il filo si trova normalmente nelle mercerie oppure lo acquisto in qualche posto particolare no no tendenzialmente dovrebbero averlo anche in merceria, questi fili che io utilizzo si trovano tranquillamente quindi non dovrebbe essere un problema perfetto allora partiamo quindi dal fiore, allora io ho già tagliato un pezzettino di filo, per chi non è pratico del ricammo come funziona si taglia un pezzo di filo, si fa a un'estremità un doppio nodo, io ho già fatto, ho già tutto pronto e invece all'estremità opposta si va a infilare l'ago e si lascia così, ok, un piccolo pezzo senza fare il nodo l'ago da utilizzare anche in questo caso dipende molto dal filo che stiamo utilizzando e dal foro nel caso del ricamo su legno che dobbiamo andare a ricamare perché ovviamente dobbiamo considerare la grandezza dell'ago e della sua pruna quindi deve passare attraverso il foro allora ogni volta che facciamo un ricamo si parte dal fondo, io in questo caso cosa ho fatto? ho un tessuto di tela normale, ho usato un telaio per tenere ben teso il tessuto, come vedete è ben tirato questa cosa è fondamentale quando si ricama su tessuto perché il telaio ci permette di tenere ben teso il tessuto e quindi di creare dei punti precisi, ok, quindi secondo me se dovete creare un ricamo sul tessuto questa cosa è fondamentale quindi cosa faccio? Prendo il mio ago e mi posiziono sul retro all'inizio dello stelo del fiore ed esco fuori, ok, quindi ho il mio filo fuori dopodiché mi sposto a circa 5 mm di distanza ed entro dentro quindi ho fatto il primo punto poi da sotto il tessuto, quindi io sono sotto adesso con l'ago mi sposto sempre alla stessa distanza di prima, quindi possiamo dire 5 mm di distanza ed esco fuori ora, si chiama appunto punto indietro per questo motivo, torno nel punto precedente col mio ago ed ecco fatto, quindi questo è l'andamento del punto, molto semplice, questo è uno dei punti più basici in assoluto e viene appunto utilizzato per fare le scritte, per fare gli steli dei fiori poi tra l'altro il risultato, come vi dicevo prima, è sempre diverso in base allo spessore che utilizziamo del filo ecco, questo io ho provato a farlo facendo la dispensa, preparando la dispensa mi stavo riguardando i punti che avevi insegnato, questo ho provato a farlo quindi in questo mi sono cimentata, gli altri due non ho ancora provato quindi aspetta che tu arrivi nella corolla vedrai che sono semplici esatto quindi sempre da sotto, adesso mi sono spostata avanti di 5 mm e cosa faccio? torno indietro, esattamente nello stesso punto di prima ok, così sono sotto il tessuto, mi risposto avanti di 5 mm ok e torno indietro io dico 5 mm ma in realtà si possono fare anche dei punti più lunghi quindi l'importante è che siano sempre più o meno tutti abbiano la stessa larghezza però in questo caso ad esempio che c'è una curva io consiglio sempre di fare dei punti non troppo distanti perché in questo modo il filo segue l'andamento in modo naturale della curva ok quindi vado avanti, mi sposto sempre sotto di 5 mm torno nel punto precedente vado avanti torno nel punto precedente è anche molto veloce da fare questo tipo di punto vado avanti torno nel punto precedente e finisco quindi faccio l'ultimo punto e faccio così in questo caso visto che ho finito faccio un doppio nodo sul retro però ve lo faccio vedere dopo così prima finiamo e vi faccio vedere poi come chiudere quindi con questo abbiamo finito ora andiamo a fare il punto margherita questo punto si può utilizzare sia per fare i petali quindi questo in questo caso ma anche per fare le foglie nello stesso identico modo quindi è un punto molto versatile io l'utilizzo spessissimo appunto per fare i petali ma anche per le foglie perché è molto comodo adesso vi faccio vedere quindi adesso ho cambiato filo la tipologia di filo è sempre uguale ho fatto sempre un nodo all'estremità ok doppio nodo e poi dalla parte opposta invece ho lasciato libero il filo quindi l'ho tagliato vi consiglio di non tagliarlo eccessivamente lungo perché è facile poi attorcigliarsi ma neanche troppo corto perché sennò dovete cambiare il filo molto molto spesso più o meno 60 centimetri 50 centimetri può andare bene allora cosa faccio mi posiziono esco fuori con l'ago da sotto il tessuto al centro dei miei petali ok al centro dei miei petali vado a creare prima quello centrale vado a posizionarmi con l'ago nella prossimità del punto appena fatto ok così tiro ma non tiro totalmente quando arriviamo a questo punto quindi abbiamo creato una sorta di asola diciamo mi sposto col mio ago all'estremità opposta quindi io sono entrata da qua mi sposto da sotto il tessuto nella parte opposta esco fuori da qui così cerco di avere l'ago dentro quest'asola che sto creando e lo tiro tiro finché il filo non viene tirato e come vedete in automatico si crea una sorta di petalo quindi sono veramente due punti di numero ora per assicurare quindi per fermare il petalo che ho creato sempre con l'ago vado fuori dal filo cioè io adesso qua questo cerchio in cui dentro ho il filo mi posiziono appena appena fuori e tiro ok abbiamo creato il primo petalo della margherita del fiore ora andiamo a fare gli altri quindi cosa faccio vado sempre nel centro rientro vicino al punto appena creato quindi tiro tiro finché non ottengo questo cerchiolino mi posiziono con l'ago all'estremità opposta quindi infilo l'ago dentro il cerchio tiro ecco qua il secondo petalo ora come abbiamo detto prima devo assicurarlo quindi esco un pochino fuori con l'ago e tiro ecco fatto abbiamo il secondo petalo anche qua come avete visto è molto molto veloce andiamo a fare l'ultimo quindi esco sempre dal centro rientro nel punto nelle vicinanze del punto tiro finché ottengo il cerchio nasola mi sposto mi sposto all'estremità opposta tiro quindi abbiamo già il terzo petalo e lo vado a assicurare uscendo fuori ok ecco fatto quindi abbiamo creato i nostri questo è il punto margherita perché appunto viene utilizzato per fare i fiori stessa cosa se io volessi fare la foglia adesso utilizzo lo stesso colore giusto per farvi vedere quindi vado a fare ho tagliato il filo vado a fare il nodo dietro un attimo il punto precedente invece era il punto indietro indietro abbiamo visto il punto indietro che è il gambo del fiore il punto margherita adesso vi faccio vedere il punto margherita per fare la foglia quindi dovete considerare sempre due estremità della foglia una più sottile e una più tonda ok noi partiamo sempre dalla parte sottile quindi sono uscita da qua rientro qua ok ottengo l'asola mi sposto dalla parte opposta ok ecco fatto ho già tenuto la foglia quindi vado fuori per assicurarlo ed ecco fatto abbiamo creato la foglia in questo caso dovrebbe essere verde ma l'abbiamo fatta rosa però per farvi capire come uno stesso punto uguale identico può essere usato per diversi per rappresentare diversi soggetti diciamo infatti mi chiedevano anche se quando rientri nello stesso punto per il punto margherita sì perché se si deve entrare esattamente nello stesso punto oppure in un punto a fianco allora io consiglio dopo vedremo la variante su legno che è un po' diversa in realtà quando fate sul tessuto io consiglio di entrare nelle vicinanze quindi molto vicino perché può succedere che andate a prendere il nodo che c'è dietro e vi impigliate diciamo questo soprattutto quando fate il primo petalo con gli altri no però tendenzialmente è sempre meglio stare un po' staccati ma proprio un millimetro di distanza non entrare nello stesso punto ma un millimetro di distanza su legno invece siccome abbiamo pochi fori dobbiamo un attimo diciamo arrangiarci e entrare nello stesso foro ma vi faccio vedere dopo ok adesso finiamo vediamo l'ultimo punto che io dico sempre a me piace tantissimo il punto nodino che è questo qua questo qui che crea un effetto molto voluminoso e molto tridimensionale mi piace sempre diciamo che alcune volte viene visto con timore perché sembra difficilissimo in realtà è semplice bisogna solo capire come muoversi con le mani quindi non spaventatevi perché infatti adesso sono curiosa di vederti allora usiamo il filo rosa e entriamo da sotto quindi come sempre io ho fatto il doppio nodo a un'estremità e ho lasciato libero l'altro capo ok esco fuori in questo caso usiamo due mani quindi cosa faccio prendo con la mano sinistra il capo del filo con la mano destra tengo il mio ago lo giro giro il filo tre volte intorno all'ago lo tengo sempre con l'altra mano ok entro vicino al punto che ho fatto prima guardate la mia mano tiene sempre il filo entro con l'ago tiro adesso posso lasciare la mia mano ecco ho fatto il punto nodino ve lo faccio rivedere fantastico perché è sempre meglio vederlo qualche volta allora esco fuori dal tessuto ok anzi mi avvicino un pochettino così lo vedete meglio allora esco fuori con la mano sinistra tengo il mio il mio filo giro intorno alla punta del lago per tre volte io dico tre volte perché in realtà potremmo girare anche più volte però tre volte è il numero massimo secondo me per non esagerare perché poi si fa fatica a maneggiare questo questo tipo di punto quindi una due e tre intorno alla mia punta entro vicino al punto che ho fatto faccio passare l'ago il filo lo sto sempre tenendo con l'altra mano lo lascio ecco fatto il punto nodino quindi entro più veloce uno due tre ok lo faccio rivedere e sta tutto nel movimento delle mani quindi mi raccomando tenete sempre con la mano sinistra il capo lo fate girare tre volte intorno al filo scusate all'ago entro dentro e poi vado a tirare ecco come tutte le cose ci vogliono un po' di prove per prendere la mano e poi dopo si va questo è un punto allora viene utilizzato spessissimo appunto per fare i pistilli dei fiori quindi anche se fate magari una margherita molto grande se ne fate tanti molto ravvicinati crea un effetto molto che è similissimo al pistillo del fiore quindi è molto d'effetto ed è molto bello perché appunto come vi dicevo prima crea un effetto tridimensionale ve lo faccio rivedere un'altra volta poi lo vediamo anche su legno ma su legno è sostanzialmente la stessa cosa quindi tengo con la mano uno due tre entro dentro tiro lascio la mano ecco fatto basta niente di di più semplice e poi anche qua anzi adesso vi faccio vedere che giro in realtà ho sbagliato perché ho preso il tessuto però vabbè vi faccio vedere quando chiudo tendenzialmente io vado a fare un nodo cioè faccio passare l'ago intorno al filo tiro in modo che sia bello bello aderente al tessuto vedete qua tiro con la mano e faccio un doppio nodo ok e poi vado a tagliare il filo in eccesso così siamo sicuri che il nostro ricamo non si non si dispi avete visto in pochissimo abbiamo fatto un fiorellino molto d'effetto ora vediamo un attimo come come cambia il ricamo su legno allora quindi stavamo dicendo Valentina mi ha fornito questa forma dopo mi raccomando rimanete dopo che abbiamo finito il ricamo rimanete perché Valentina vi farà vedere esattamente come creare questa forma di cavallino d'ala che appunto non so se conoscete è un cavallino tipico della tradizione scandinava danese molto carino e tendono spesso a decorarlo appunto con molti molti colori quindi volendo si potrebbe anche pittorare e poi ricamare io ho deciso di lasciarlo in legno grezzo perché mi piace e però ho utilizzato tre colori diversi per arricchirlo e un altro consiglio che vi posso dare questo vi faccio vedere è il prototipo che avevo fatto del cavallino quindi come è andata la dinamica Valentina mi ha fornito la forma che avevamo deciso io l'ho tracciata su un cartoncino ho disegnato e poi dopo ho disegnato ho fatto dei fori per capire come distribuire appunto il disegno e la resa finale quindi se siete indecisi su un disegno volete cimentarvi anche voi su un progetto di ricamo su legno il mio consiglio è fatelo prima sul cartoncino vedete anche la scelta dei colori se vanno bene come ingombri eccetera e poi andate a trasportare tutto su legno ok allora quindi abbiamo questa forma iniziamo con facciamo il punto indietro allora utilizzo la forma per farvi vedere vi faccio vedere allora adesso come fare il punto indietro che è il collare diciamo del cavallino questo qua che è questa parte qui questi fori ci vanno vanno poi a creare il collare diciamo quindi partiamo dal primo foro ma partiamo da dietro quindi io mi posiziono dietro ho già fatto il mio doppio nodo esco con l'ago assicuratevi di fare un nodo un doppio nodo che sia più grosso rispetto ai fori perché sennò poi tirando non ferma il ricamo ok mi chiedono proprio riguardo ai nodi se perché non so se esiste qualche altra tecnica nel ricamo di non fare i nodi quando si parte perché mi chiedono come mai è richiesto sempre il doppio nodo prima di partire io ci sono alcune persone che non li fanno ad esempio però se dobbiamo fare un ricamo che deve essere sicuro quindi ad esempio su una maglietta che deve essere lavata indossata eccetera io faccio sempre il nodo anche uno piccolo in realtà in questo caso io sto facendo un doppio nodo ho un filo anche abbastanza grosso ma perché come vi dicevo prima non mi deve passare attraverso non deve scappare dal buco i fori esatto volendo si potrebbe io prima avevo fatto vedere che ho fatto un nodo alcune volte alcune volte si può passare nei punti già fatti e bloccare in questo modo il filo però non è sicuro al cento per cento quindi un nodo secondo me è sempre meglio farlo è più sicuro hai un lavoro sicuramente ok ritorniamo qua quindi sono entrata da sotto il primo foro e sono uscita fuori quindi a noi però ci serve che ci sia questa parte ricamata quindi cosa faccio in questo caso rientro nello stesso foro ok rientro nello stesso foro attenzione a non prendere il nodo perché sennò ci dà fastidio e abbiamo fatto assicurato diciamo il primo punto dopodiché questo è il punto indietro mi sposto per adesso in avanti ok ora giriamo il ricamo il cavallino mi sposto nel foro successivo aspetta mi sono incaspata ok adesso come abbiamo detto prima il punto indietro torniamo nel punto precedente mi sposto di nuovo dietro e vado nel punto successivo diciamo che in questo caso nel caso del punto indietro secondo me è anche più semplice avere già i fori impostati perché semplicemente dobbiamo fare sempre lo stesso movimento quindi vado torno indietro mi giro torno avanti cioè vado avanti hai già la posizione già stabilita sì sì non devo neanche non devo neanche calcolare la distanza dei punti perché ho già tutto pronto devo solo entrare davanti così io ho proprio l'ago il filo tiratissimo perché l'ho tagliato troppo corto ok abbiamo l'ultimo punto da fare in questo caso come vedete noi dobbiamo un attimo che non riesco a muovermi dobbiamo finire quindi vado direttamente da davanti e dentro nel punto se ce la faccio siamo proprio ok tiratissimi nell'ultimo punto e abbiamo finito il nostro collarino diciamo chiamiamolo così ora per assicurare il filo dovrei fare un nodo sono molto molto stretta vediamo se riesco così possiamo anche fare così rispondendo alla ragazza di prima alla domanda di prima io ho fatto passare il filo nei punti già ricamati lo vedete ok e in questo caso posso andare anche a tagliare qua perché questo cavallino sarà un oggetto decorativo quindi non andremo a lavarlo non andremo a indossarlo quindi in questo caso posso anche non fare il doppio nodo alla fine ok quindi ho solo infilato il mio filo nei punti precedenti ok quindi questo è il risultato del punto indietro ora vi faccio vedere il vediamo il punto margherita allora qua diciamo che è un po' più difficile riuscire ad orientarsi perché abbiamo tanti punti ci sono due punti poi dietro cioè in senso sono due punti diversi quindi bisogna stare un attimo attenti a i punti come farli per creare il nostro disegno magari andiamo a fare questo questo centrale che è un po' più facile magari da individuare quindi il punto centrale è un punto nodino invece questi questo e questo questo e questo così via e vanno a creare i punti margherita quindi per fare il punto margherita su legno basta avere due punti uno di inizio e uno di fine che sono esattamente questi quindi uno di inizio e uno di fine ok prendiamo il filo rosa scusate non ho fatto il nodo lo recupero subito ok allora quindi come si fa io prima vi avevo detto entriamo dalla parte più sottile che dovrebbe essere questa considerando guardate sempre il disegno la parte più sottile di qua quella un po' più cicciotta diciamo più curva e dall'altra parte entro ok quindi prima vi ho detto nel tessuto entriamo nelle vicinanze in questo caso non abbiamo un punto vicino quindi entriamo nello stesso punto l'unica cosa che dovete stare attenti è a non prendere cioè non fare questo non so se state vedendo se si vede cioè non prendere con l'ago il nodo quindi spostate un pochettino il nodo e fate passare l'ago ok altrimenti si incastra poi dopo sì esatto non riuscite a tirare bene si incastra quindi l'unica accortezza è questa quando fate questa operazione qua siccome stiamo entrando nello stesso foro spostate poco poco il nodo ok quindi anche in questo caso tiro finché non ottengo un'asola quindi teniamo l'asola un po' grande perché in questo caso è una margherita più lunga quindi da dietro mi sposto nel punto all'estremità della margherita mi sposto all'estremità della margherita e faccio passare l'ago dall'altra parte ok quindi tiro ok la margherita è già fatta la vedete si vede si vede vale si 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 vede ok ora dobbiamo assicurare la margherita quindi cosa faccio rientro nello stesso foro finale in modo che con il mio filo vado a tirare l'altro filo quindi non si muove più quindi rientro qua ok ecco fatto questo è il punto margherita su legno semplicissimo bastano proprio due punti esatto come dicevi prima mentre su tessuto vado magari a spostarmi di quel poco per entrare vicino qua invece sfrutto i due fori sì perché sarebbe scomodo avere troppi fori secondo me non si capirebbe più nulla quindi bisogna sfruttare i fori che abbiamo stare attenti esclusivamente al nodo che ho nelle vicinanze oppure sto rientrando quindi non tiro troppo ecco un altro consiglio che vi do quando fate il punto margherita non tirate eccessivamente perché se no non si crea questa forma tondeggiante anzi viene molto tirata ok adesso magari dopo proseguiamo però nel frattempo vi faccio vedere il punto nodino che in realtà è quello che rimane più fedele a quello del tessuto diciamo sì quelli più fedeli sono appunto il punto il punto indietro e il punto nodino quindi ora ho preso ho cambiato filo sempre lo stesso tipo che vi ho detto prima andiamo a fare un punto un punto nodino quindi questa parte qua è tutta in punto nodino ne vado a fare una vado a fare questo ad esempio quindi entriamo sempre dal dal fondo dal retro entro ok ora tengo con la mano sinistra il filo giro intorno una due e tre volte rientro qua in questo caso siccome stiamo rientrando nello stesso buco come vi ho detto prima attenti a spostare un pochino il nodo ok quindi tiro tiro e lascio ed ecco fatto il punto nodino una volta che ne ho fatto uno posso procedere senza fermarlo vado a fare il successivo quindi mi sposto vado qua stessa cosa uno due tre entro dentro in questo caso non mi interessa che vada a prendere il filo l'unico problema che mi crea è quando va a prendere il nodo perché appunto mi crea della resistenza e non riesco a tirare invece in questo caso non c'è problema quindi vado tac fatto e così via quindi vado avanti adesso ho il filo un po' corto anche in questo caso uno due uno due tre il numero di volte che noi giriamo sulla punta del lago con il filo va a diciamo a influire sulla sua grandezza ok vi faccio vedere ad esempio se provo a fare un due giri quindi non ho fatti tre ma ne ho fatti due avremo un punto nodino più piccolo che è molto probabilmente troppo piccolo per questo tipo di fori come vedete vedete la differenza queste da due e queste da tre in questo caso se io tiro troppo molto probabilmente viene entra nel foro perché non sta facendo diciamo spessore quindi a seconda dei fori che avete valutate anche valutate anche quanti giri fare intorno al lago in questo caso forse anche quattro potrebbero andare bene tre va benissimo diciamo due un po' poco anche perché la resa come vedete è un po' più si risperde un po' di più diciamo beh di fatto comunque non ci sono grandissime differenze tra una volta che hai creato i fori hai ideato la tua decorazione il tuo ricamo poi vai cioè se uno è pratico con ricamo una volta che hai la sagoma vai via spedito sì sì esatto sì l'unica accortezza secondo me bisogna stare un po' più attenti quando si vanno a fare i punti margherita ma leggermente poi un'altra cosa che volevo dirvi è il retro del cavallino ovviamente sarà un po' disordinato secondo me si può anche ritagliare una sagoma con del cartone colorato della carta e applicarla sopra in modo da nascondere tutto il lavoro perché ovviamente ci sono una bella carta da scrap secondo me può essere carino oppure sì oppure semplicemente si posiziona dalla parte giusta e non si vede niente però se volete fare un regalo ad esempio può essere carino coprire anche il retro rimane più rifinito sì sì un po' più elegante diciamo e quindi semplicemente qua quindi abbiamo utilizzato vi faccio un recap dei fili scusate dei punti allora punto indietro punto nodino punto indietro punto margherita punto nodino tutto questo punto margherita punto nodino punto indietro punto nodino margherita alternanza e questa questa zampetta è identica a questa però secondo me il risultato è molto carino è anche sì è grazioso da vedere è particolare e poi ovviamente si può sperimentare anche con vari colori farlo più colorato farlo con un colore che ci piace in particolare ma anche magari giocare con lo spessore dei fili quindi fare una parte con i fili più grossi magari un'altra con i fili più sottili anche facendo appunto dei punti più di diverso spessore prima ad esempio vi parlavo anche del filo classico da ricamo ve lo faccio vedere giusto per per capirci che è questo qua e praticamente ogni capo come vedete qua già diviso può essere separato in parti più piccole quindi potete usare tutti i sei fili tre fili due fili quattro fili eccetera però cioè è comunque un bel risultato ma secondo me è meglio utilizzare dei fili un po' più rossi appunto per avere un ricavo come tu che fili utilizzi solitamente se vuoi dire la marca tutti questi che utilizzo sono di DMC è un marchio francese molto famoso ma ce le hanno tutte le mercerie quindi basta chiedere magari i filati per lei potrebbero non essere in tutte le mercerie ma online si trovano tranquillamente mi chiedevano un'ultima domanda mi dicevano se al posto del nodino si può magari su lei utilizzare la colla per fissare il filo ah sì volendo sì perché no bisogna aspettare un attimo che si asciughi però sì perché il nodino rimane un po' più voluminoso diciamo quindi volendo anche la colla va benissimo sì sì infatti ecco ok quindi direi che adesso possiamo vedere altre domande non mi sembra ci siano altre domande mi sembra che abbiamo risposto a tutte in corso d'opera te le ho fatte quindi nel caso le mettete nel boxino così almeno a fine registrazione magari lasciamo ancora un pochino di spazio allora adesso vediamo come creare questa sagoma come ho fatto a realizzarla allora il progetto è comunque nato in collaborazione con Martina perché abbiamo pensato un pochino a che progetto poter presentare e tra i vari che abbiamo pensato il più gettonato è stato il Dala quindi da qua io ho creato la sagoma il contorno che sono andata a ritagliare su legno allora l'ho ritagliata utilizzando il Motosaw per chi ha seguito il webinar del 22 di maggio avevo spiegato nello specifico proprio tutti i dettagli su questo tipo di utensili di Dremel quindi vi consiglio di andare a rivedere sulla pagina Facebook di Dremel Italia c'è la registrazione così avete tutte le indicazioni su come si monta come si utilizza le varie lame tutto quello che c'è da sapere sul Motosaw quindi a questo giro non mi ripeto passiamo a parlare degli altri strumenti che ho utilizzato diciamo che faccio una prima parte introduttiva sugli strumenti così almeno vi faccio una panoramica di quelli che sono gli utensili di Dreme e poi andiamo nello specifico a vedere come lavorare la sagoma vi faccio vedere poi dopo anche un video giusto per farvi capire come si taglia il profilo e come si riporta la sagoma sul legno quindi vi faccio vedere tutto allora partiamo quindi dalle basi principalmente ci sono questi due attrezzi che sono i rotativi Dremel questo è il basico che è il Dremel 3000 mentre invece questo qua è quello un pochino più potente che è il Dremel 4000 esiste anche la versione 40003 che ha un cappuccio in aggiunta con la luce quindi che differenza c'è tra queste due macchine al di là della dimensione perché potete vedere che una un pochino più piccola e compatta l'altra è più grande questa ha una potenza di 130 watt mentre invece questa di 175 quindi ha un motore macchina un pochino più prestante e in più questa arriva a 33.000 giri al minuto mentre questa a 35 quindi permette l'utilizzo di punte ad alta velocità con prestazioni un pochino maggiori però io dico sempre per cominciare il 3000 è perfetto come funziona io ho le macchine base più tutta una serie di accessori e gamma infinita perché davvero io posso fare di tutto con il rotativo posso tagliare posso forare fresare lucidare ogni testina che monto mi dà la possibilità di fare delle lavorazioni differenti quindi veramente con un rotativo di questo tipo io faccio di tutto quindi dalla rifinitura della sagoma in legno alla pulizia dei fornelli in inox alla foratura della porta io una volta sono rimasta chiusa in casa ho tagliato la porta il pannello della porta col dremel perché non riuscivo ad uscire quindi davvero una volta che ce l'hai in casa lo usi io dico sempre così quindi mi raccomando se avete in casa un dremel usatelo perché delle volte mi arrivano mi arrivavano le persone in fiera oppure magari me lo dicono nelle chat su instagram o il dremel non l'ho mai usato sacrilegio quindi usatelo non a caso si chiama multifunzione tra l'altro esatto brava brava proprio perché puoi farci un sacco di cose cioè nel momento in cui ce l'hai lo sfrutti che testine si possono utilizzare allora il base ha una testina ha un dado non so se si vede ha un dado che schiacciando questo tasto si riesce a svitare ho imparato da poco tra l'altro un trucchetto perché i nuovi modelli se vedete c'è una parte in metallo interna alla ghiera se io svito questa ghiera e vado a portarla in avanti non mi mette tanto bene a fuoco però lo porto in avanti riesco a muovere il bullone il dado e riesco poi a stringere la punta che devo andare ad inserire le punte hanno solitamente uno spessore c'è scritto anche qua dai 3,2 millimetri a quasi allo zero quello che trovate in dotazione ha una doppia una doppia è fatto in due parti quindi c'è il dado che va a stringere più una ghiera questa ghiera può essere ce n'è in due in due parti una più grande per le punte più larghe e una per le punte più piccole c'è però un'altra cosa che si può utilizzare che è il mandrino autoserrante praticamente è un'unica ghiera che basta svitare o avvitare e va a stringermi tutte oppla è scappata tutti i tipi di punte quindi con questa a mano riesco a stringerle mentre invece con questa devo utilizzare o la ghiera quella che è presente o altrimenti la chiavetta in dotazione che è questa quindi semplicemente col mandrino autoserrante è più comodo perché vado a stringerla a mano e poi ne ho uno solo per tutti quanti il bello è che per i rotativi Dremel le testine sono universali quindi tutte le punte che andate ad acquistare potete utilizzarle su tutta la gamma oltre a questi due c'è anche la versione più piccola che è quella solo per la decorazione che è lo stylo che è proprio la pennetta e basta e poi ci sono anche le versioni a batteria mentre invece il 4000 e il 3000 sono a cavo quindi a corrente a queste posso però collegare questo se non faccio danni questo che è l'albero flessibile cosa mi permette di fare? di avere il corpo macchina a parte e quindi di avere in mano solo il peso e la penna quindi per avere un lavoro un pochino più agile e maneggevole solitamente la macchina viene appesa esiste un trespolo apposta della Dremel proprio per appenderla parecchio o in alternativa potete appenderla allo stendino o quello che volete quindi comunque basta allora vi consiglio di non tenerla appoggiata al tavolo perché vi crea vibrazione e quindi magari vi interferisce nel lavoro che state facendo quindi consiglio proprio di vedete che c'è qua il gancio di tenere la macchina appesa meglio se su quello originale di Dremel e non sullo stendino e poi dopo agganciare l'albero flessibile per agganciare l'albero flessibile c'è in dotazione un uno specifico dado che ha una base quadrata si vede che è quadrato non si vede un pochino si si vede praticamente questa parte quadrata viene inserita al posto di quello standard guardate aspettate si toglie quello standard si inserisce quello a base quadrata lo si ferma bene con la chiavetta e poi per inserire l'albero flessibile dovete fare attenzione perché questo è un passaggio essenziale altrimenti non funziona l'albero all'interno c'è quest'anima che è di fatto quella che porta la rotazione alla punta dell'albero flessibile quindi io quest'anima devo farla esattamente entrare all'interno del mio dado a base quadrata una volta che l'ho inserita poi a quel punto vado a fermarla avvitando così opla aspettate che non ci sta vado ad avvitarla ed è fissato a questo punto io ho il mio albero fissato dalla parte opposta alla fine cosa faccio vado a rimontare sempre le solite testine quindi ho il mio dado standard oppure il mandrino autoserrante e anche qua posso andare a montare tutte le punte della gamma Dremel ok e questo è un po' quello che volevo raccontarvi sulle macchine perché tante volte magari sei indecisi su quale acquistare quindi magari si vedono tantissime offerte anche sui portali online oppure nei centri del fai da te tanti magari semplicemente si differenziano solo per il contenuto della confezione quindi dal numero di accessori che si trovano all'interno altre volte invece è proprio il corpo macchina quindi il 3000 il 4000 o il 4003 il 4003 è come corpo macchina uguale al 4000 ma in più sul beccuccio ha la possibilità di essere acceso quindi ha proprio una lucina led ed è comodo secondo me quando si fanno i lavori di precisione perché una luce in più sul lavoro che stai facendo è utile ok adesso in particolare andiamo a vedere come abbiamo creato la sagoma quindi cosa ho fatto sono partita da un semplice pezzo di compensato in questo caso è un compensato credo di di pioppo però non ne sono certa perché quando vai nel centro del fai da te non specificano mai compensato mettono quindi un generico compensato generico compensato non specificano e quindi compensato da 10 ho semplicemente stampato la sagoma che volevo oppure la disegno su un foglio e questa è la sagoma perché vedete queste cose appiccicate perché una volta che io l'ho stampata l'ho ritagliata ho semplicemente ricalcato il contorno con la matita e sono andata a tagliarla con il moto su poi una volta tagliata ho ripreso la mia sagoma l'ho sovrapposta e l'ho applicata con del nastro adesivo in maniera tale che stesse ferma in questo modo non sono andata a ridisegnare tutti i fori ma sono andata semplicemente a ricalcarli direttamente con la punta perforatura quindi diciamo che è un passaggio meno soprattutto se i fori sono tantissimi evitate di passare mezz'ora a disegnare forellini applicate direttamente la vostra sagoma adesso volevo condividere con voi con lo schermo spero di non fare disastri così vi faccio vedere come ho tagliato e come ho forato e poi nello specifico vi faccio vedere dal vivo come fare un foro e come rifinire i bordi allora vediamo un po' condivido lo schermo vediamo se ce la faccio allora vediamo un po' ditemi se si vede si vede Vale si vede perfetto allora lo faccio partire allora non credo che si senta la musichetta di sottofondo perché ho le cuspie quindi allora questa prima parte un attimo che vediamo se riesco a fermarla ecco allora io sono partita con il sbozzare la parte più esterna per non avere magari se uno ha una lastra più grande poi dopo è più difficile muoversi all'interno del motosò quindi ho sbozzato la sagoma girandoci intorno ma stando proprio abbastanza larga e poi dopo sono andata incontro a tutti gli spigoli questo perché poi dopo nel taglio avere già un invito dove dovrei diciamo far girare più velocemente la lama o comunque in maniera più repentina mi facilita il lavoro quindi prima cosa vado verso gli spigoli o verso le parti un pochino più chiuse e poi dopo faccio tutta la sagoma esterna quindi vedete che sono andata prima a fare gli spigoli qua ho fatto l'orecchia e poi ho cominciato a tagliare la schiena la criniera e poi sono arrivata direttamente lì poi ho rifatto l'altra parte e vedete che qua mi è comodo dove sono andata incontro perché mi tira via un pezzo di legno che se no mi avrebbe dato fastidio la pancia ed ecco fatto semplicemente la sagoma è pronta in questo caso invece poi dopo sono andata a forarlo quindi qui vedete i disegnini già fatti che poi di fatto sono dei pre-fori che io avevo creato perché ero partita con una punta molto fine molto sottile infatti a Martina avevo inviato la sagoma con i fori fin troppo piccoli perché poi faceva fatica a passare il filo e l'ago questo vi dicevo prima quindi come diceva Martina fate i calcoli dello spessore del filo più la cruna del lago che deve passare attraverso il foro perché altrimenti poi non passa fisicamente proprio avete difficoltà infatti in questo caso io avevo fatto dei fori troppo piccoli ma sono andata ad allargarli utilizzando semplicemente una punta per per fare i fori molto fine quindi sempre della Dremel c'è un kit proprio per la foratura di precisione dove avete da proprio 08 mi pare come come diametro del foro fino a 3 mm se non mi sbaglio però non vorrei dire dovrei verificare quello andiamo avanti vedete semplicemente posso andare a creare i fori così vado a forare tutte le mie parti anche perché mi raccomando utilizzare un supporto sotto perché se no vado a bucare anche il ripiano dove sto lavorando poi sono andata a levigarlo con una spugnetta abrasiva oppure semplicemente con la carta vetrata e poi per invece il bordo ho utilizzato i cilindretti di carta abrasiva che sono proprio delle punte dremel sono dei cilindretti di carta vetrata che si inseriscono all'interno di questa punta si fermano nella parte superiore si inseriscono nel rotativo e poi li utilizzo per levigare e rifinire infatti qua l'ho inserito con il mio mandrino e sono andata a sbozzare tutti i bordi del cavallino tutti i bordi fino a che ho ottenuto diciamo il grado di smusso che volevo ottenere quindi questa è come ho creato la sagoma allora adesso interrompo la condivisione vediamo dov'è eccolo qua vale volevo farti una domanda si vai dimmi per il motosotu come seghettino diciamo hai utilizzato una una che trovi già nel kit cioè quando acquisti il motosotu ci sono già le lame comprese solitamente ci sono le tre lame che sono la ms1 ms2 e ms3 la prima è per il taglio più che altro rettilineo di spessore un pochino più grossi la ms2 solitamente è per i curvilinei e io la utilizzo per le cose un pochino più più sottili e poi dopo la ms3 invece è per il metallo e le lamierine e sono comprese nella confezione una volta che comunque uno non li ha più a disposizione vendono i ricambi quindi senza nessun tipo di problema poi magari c'è chi si trova meglio con una meglio con l'altra ecco indicativamente io taglio spessori dallo 0,2 fino ai 2 cm 2,2 cm 3 ho provato anche a tagliare spessori un pochino più alti e cortecce quindi basta andare piano ecco la cosa importante è andare sempre lentamente non forzare mai la lama perché altrimenti e soprattutto niente cambi repentini perché magari se è calda la lama tende a spaccare lentamente si va e si taglia quindi scusami alla fine quanto riguarda i fori quanto dei fatti grossi vediamo allora alla fine è un millimetro e due ho usato la punta da un millimetro quindi tra una cosa e l'altra alla fine la puntina è questa è molto piccola quindi possiamo dire che questa punta va benissimo per fare il progetto di oggi sì direi di sì 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 allora adesso la monto sul rotativo abbasso lo schermo così vi faccio vedere allora allora prendiamo questo organizzo assino perché così non distruggo il tavolo allora rotativo ecco qua eccolo qua vi faccio vedere allora smonto quello che c'era in precedenza anche perché devo utilizzare una lama sottile cioè una punta sottile per fare i fori cos'è che l'ho messa talmente sottile che è scappata ah eccola qua allora poi monto il mio mandrino autoserrante così sono più comoda e non devo montare la ghiera più sottile quindi ecco qua così vado a inserire spesso troppo vediamo un po' ecco qua scusate non si vede tanto ma con due mani così non è semplice ok ok così stringo bene e la mia punta è inserita adesso abbasso così vi faccio vedere come forare allora in questo caso io ho forato tenendo la macchina a mano potevo utilizzare l'albero flessibile quindi avere in mano soltanto la pennetta oppure esiste anche un altro modo per creare dei fori perfettamente verticali che è la workstation Dremel vediamo se riesco a farvela vedere è praticamente proprio una stazione di lavoro vediamo un po' se riesco a farvela vedere dov'è 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 eccola qua vedete è questa qua praticamente vi permette di inserire il corpo macchina perfettamente in verticale e con una leva abbassarlo per creare tutti i fori perfettamente perpendicolari in questo caso anche se magari non ottengo il foro perfettamente perpendicolare vado tranquillo Vale scusa abbiamo una domanda chiedono il foro si può fare anche con il manipolo o meglio dal Dremel senza prolunga però penso tu stessi già rispondendo a questa cosa ma sì è uguale posso utilizzare sia il corpo macchina ma anche l'alberello flessibile diciamo come uno è più comodo esatto cioè se uno ha l'albero flessibile può montarlo direttamente sulla macchina in questo caso l'ho montato sulla macchina quello che ho mandato a te invece l'avevo utilizzata dall'albero flessibile quindi dipende allora vediamo se l'ho acceso tu per iniziare cosa consiglieresti per una persona che ha gli inizi allora un 3.000 il 3.000 è il base già ci sono magari dei pacchetti con il base comunque ha un costo anche abbastanza accessibile poi si trovano sempre tantissime promozioni offerte quindi col base magari uno comincia ad avere un'idea di quello che può farci se poi vede che non lo so dalla creazione di una semplice sagoma vuol creare invece una statua allora magari consiglio di passare al 4.000 che ha un motore macchina un pochino più più prestante quindi dipende anche sempre dai lavori che occorre fare non mi stavo spiegando se si può comprare il 4.000 e 3 per fare i fori penso di sì sì certo sì 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 assolutamente certo sì sì poi ogni macchina la uso per tutto mi dicevi? no no pensavo ci fosse un'altra domanda no ma io volevo dire prima tu una persona che ha inizi e vuole fare i fori consigli di usare l'albero flessibile oppure di provare direttamente col Dremel? ma può provare anche direttamente ok è partibile adesso vi faccio vedere comunque per chi non ha l'albero flessibile almeno questo è il 3.000 che è il base come fare per fare i fori abbasso così dimmi se si vede così sì metti un po' indietro il cavallino ok così lo vediamo ok allora adesso l'accendo farò un po' di casino vedete allora controllo se ho fissato bene la punta perché se no poi dopo vibra vado ad accenderlo quindi vado a dargli la velocità ok e in verticale poi dopo vado a forare è velocissimo quindi sì sì è proprio va via tranquillissimo quindi creo i miei fori vedete a che velocità hai messo? allora io adesso sul 3.000 l'ho messo sull'8.10 quindi queste mi pare che allora importante su quando acquistate le punte sul retro c'è sempre scritto il numero di gira cui è meglio utilizzare la punta però consiglio sempre io di fare una prova su un pezzettino uno scarto oppure sul retro proprio per verificare la e ottimizzare la velocità quindi viene consigliata una velocità sul retro proprio della punta tra l'altro quando acquistate la macchina all'interno c'è questo bellissimo specchietto che sarebbe da incorniciare con ogni colore è praticamente il tipo di utilizzo e poi dopo ci sono le caratteristiche quindi il numero di giri i materiali per cui utilizzare la punta quindi diciamo questa qui è un po' la leggenda della maggior parte delle punte conviene sempre tenerla da conto perché magari se uno dice devo lavorare una pietra o un sasso cosa uso vado a vedere qua sul bugiardino e c'è scritto tutto o anche sul sito Dremel trovate le indicazioni altra cosa invece che volevo farvi vedere è l'utilizzo del cilindretto quindi cosa faccio schiaccio perché così blocco la rotazione vado a ho stretto troppo vado a sganciare il mio mandrino e inserisco la punta con il cilindretto abrasivo mi chiedono se il kit punto è universale per tutti i Dremel certo sì assolutamente ecco qua a questo punto io da uno strumento per forare ho uno strumento per levigare e rifinire in questo caso l'ho utilizzato semplicemente per rifinire il contorno ma il cilindretto abrasivo posso utilizzarlo anche per andare proprio a creare delle sagome tridimensionali con legno quindi se io voglio fare un basso rilievo o vi avevo provato a fare ad esempio un cuore tridimensionale comincio a sbozzarlo magari con il taglio quindi con il motosò e poi vado proprio a dargli la tridimensionalità andando a rimuovere il materiale con il cilindretto abrasivo adesso abbasso e vi faccio vedere così ok si vede? sì anche in questo caso io uso la massima velocità però dipende dai legni perché i legni molto morbidi con una velocità eccessiva vanno ad ascurire e a bruciare un pochino il profilo quindi anche lì dipende sempre dall'effetto che si vuole creare allora guarda vado vado si vede? ok un attimo non so se sei visto anche qua è un attimo è proprio molto soprattutto sul compensato che è un legno molto morbido io vado a creare uno smusso più o meno diciamo rustico a seconda di come piace il bordo quindi diciamo questo questo è quanto per riuscire a creare una sagoma per poi dopo passare al ricamo quindi il taglio la foratura la smussatura e se uno vuole gli dà anche una levigata con una spugnetta quindi diciamo che in un'ora siamo riusciti a mettere insieme a condensore tutto esatto a dare anche qualche indicazione sull'acquisto perché delle volte uno è un po' perso ci sono tante macchine tanti modelli e non si sa bene cosa cosa prendere invece sempre partire da che cosa devo utilizzare per che cosa lo devo utilizzare e allora da quel punto scelgo una macchina più piccola che è lo stylo solo per la decorazione se ad esempio devo fare solo le incisioni su vetro oppure delle macchine un pochino più forti se devo andare a levigare e utilizzarle anche per parecchio tempo tra l'altro io qua ho un altro progetto che vi hai fatto tu vorrei mostrarlo perché è molto carino non so se mi si vede Valentina insieme alla forma del bremer mi aveva fornito queste due due tre sagomine di gatti che servono appunto per come funzionalità servono per avvolgere i fili quindi anche in questo caso lei ha creato la sagoma le ha ritagliate nello stesso modo con il motosò e poi tu le hai decorate col pirografo giusto? esatto sì 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 avevamo parlato del pirografo a per la festa della mamma quindi se andate a cercare sempre sulla pagina di Dreme l'Italia su di Facebook c'è anche il webinar dedicato al VersaTip che è il pirografo e quindi ci sono tutte le indicazioni però almeno si ha una sagoma carina da utilizzare quando hai i fili in giro che magari ti sei rotto il portarocchette esatto quindi trovate anche queste nella dispensa allora vediamo un po' se ci sono magari ancora qualche domanda e poi siamo quasi in dirittura d'arrivo non so se me le avevi già fatte tutte sì alcune sono già fatte non so se sono sono arrivate altre vediamo un po' possiamo dire che questa tecnica secondo me potrebbe essere carina anche per creare delle decorazioni da appendere all'albero dei chi fare dei più di pacco ma anche delle piccole collane se piace lo stile un po' rustico con il legno e c'è da dire anche che partendo da una base in legno si può veramente ottenere di tutto perché anche pitturandola cambia completamente aspetti quindi secondo me io ho preparato un progetto che vi farò vedere nei prossimi giorni oggi non è ancora terminato quindi non posso farvelo vedere in diretta però ho cercato di mettere insieme gli insegnamenti di Martina per una scritta e quindi nei prossimi giorni sul mio profilo Instagram vi mostrerò che cosa ho imparato da questo web perché comunque è sempre uno scambio quindi è bello proprio perché si vanno a mettere insieme diverse tecniche e poi si vanno a conoscere anche creativi davvero bravi quindi mi fa piacere tantissimo aver fatto questo webinar con te allora aspetta che abbiamo due domande allora con il Drabble 4.000 posso tagliare il compensato come hai fatto con il Motosuo allora posso andare ecco allora la prossima il prossimo webinar che è il 3 di luglio parleremo proprio dei tutti gli accessori non le punte ma proprio gli accessori aggiuntivi per poter tagliare quindi troveremo la presa per il taglio laterale con il conetto la presa tuffo proprio per andare a fare tagli e lavorazioni utilizzando quasi esclusivamente il 3.000 o il 4.000 quindi esatto con questa oggi vi ho parlato proprio introducendovi le macchine e le punte mentre invece dal prossimo la prossima volta metteremo insieme il taglio con questo tipo di macchina quindi non con il Motosuo unito ai circuiti quindi vi faccio uno spoilerone perché andremo a creare delle delle sagome delle targhe da appendere che si illuminano quindi ci sarà Valeria Canina e con lei lei si occuperà della parte di circuiti quindi ci farà vedere la parte più tecnica legata alla creazione dell'illuminazione e io invece come realizzare la sagoma quindi mi raccomando andate sul sito www.webinarcreativi.it e iscrivetevi per i prossimi così almeno siete già in pole position per i prossimi video bene allora io vi ringrazio perché sono siete stati in tantissimi oggi la chat ho visto che continuava ad aggiornarsi è stato un bellissimo pomeriggio grazie a te Martina e grazie a Dessa Italia per questo pomeriggio bene grazie a tutti e ci trovate anche su Instagram entrambe io vi ricordo sono Martina di Ispirando e poi abbiamo Valentina se vuoi ripetere il tuo profilo Valentina Scuderi mi trovate così perché ho visto che l'hanno chiesto come ozio creativo quindi in questi due modi bene certo che faremo altri webinar se vai sul sito www.webinarcreativi.it ci sono gli altri il prossimo è il 3 di luglio poi ce n'è già fissato uno a settembre ottobre quello di settembre sarà sulla resina mentre invece quello di ottobre sui saponi quindi altre tecniche ancora da esplorare bene grazie a tutti un saluto e grazie ancora di averci seguito grazie a tutti ciao 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 ciao